Ma bella 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 tutto bene? Oggi ragazzi andrò a vendere un re... Ok ragazzi allora, oggi siamo qui nello speciale 30.000 iscritti, ok? Cioè una parte di speciale, ok? Una parte, perché arriveranno altri video. E diciamo che arrivare ai 30.000 è stata un po' una sofferenza. No, 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 ok, 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 raga, poco. no dai 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 fatti seri fatti seri perché 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 dunque prima di partire con il video vorrei farvi piccoli annunci e per chi non fosse interessato può schipare il video dunque da come avrete notato ho migliorato la qualità di video infatti sono molto più fluidi e anche la qualità è migliorata adesso ragazzi ho pure un'animazione custom per l'iscrizione quindi iscrivetevi se ancora non avete fatto ho cambiato shaders esatto ho messo delle shaders più realistiche perché boh sono fighe ho fatto l'application per lo youtube rank su ipixel e indovinate un po sono all'ultimo step ovvero l'assegnazione quindi ragazzi come c'è scritto su questa email dovrò aspettare se non sbaglio dai due giorni alle due settimane cercherò di rimanere costante con i video cercherò di postarne uno ogni tre barra quattro giorni tanti di voi mi hanno chiesto perché non posso vedere tutti i giorni ma è per il semplice fatto che lavoro lavoro sì ragazzi lavoro sì però ogni volta che andrò a postare un video farò un piccolo annuncio su instagram quindi seguitemi pure su instagram ultima cosa ma non per importanza ci saranno dei video voglio essere ucciso in pvp da te carpi mi firmi questo autografo cioè sono davanti al pvp più forte d'italia forse del mondo stop the cat sì 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 va bene va bene esatto e dopo questo ragazzi posso fidere a 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 ok lei sta bevendo acqua un po' di licenza signorina svantaggio io 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 sono così come sono comunque c'è qualcuno che sta venendo a rasciarci a non per dirti intanto ha lettele verde presa uno uuuu dai 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 ce la faremo a vincere sta partita ma già fatto giall parlo bene napolitano si no ok ok lettele rossi preso stai in base difendere allora carriagli la partita si eh scusi scusi siete in due mirtillo e fegonino basta no mirtillo e fegonino basta ti banno e dovrei fare richiesta un ban non farò mai la richiesta un ban si banno per disturbo della quiete pubblica dello staff apro il ticket su discord vuoi dire? eh buona fortuna ok adesso apro vuoi vedere? attendi la risposta di feriz vado a lasciarli in bianco nel mentre tanto per la soddisfazione personale no 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 io distraggo il bianco mirtillo e fragolina mirtillo e fragolina no c'è rotto cazzo tu sei scazzato cazzo l'ho letto hello hello mirtillo e fragolina mirtillo e fragolina eeeh bro bro ok preso mirtillo e fragolina basta ti prego ti scongiuro no ti banno al prossimo mirtillo fragolina ti giuro ti banno io apro il ticket su discord ok ok ecco il gol mirtillo e fragolina preso uno void so ti prego no ti prego no ti prego no ti prego no ti prego questo puoi dare vero? non me l'ho visto te l'ho visto eeeh distraevi sono in base sono... prego coglione è morto? ti prego cariela cariela eeeh gg gg dai sei utile pure da non helper tempo banno svantaggio due minuti faccio il ticket ti vanno anche la foto con l'ottura di coglione ti vanno anche la foto non posso ah ok adesso apro il ticket su discord aspetta hai aperto veramente un ticket su discord di cora ultimo questo è la mia vecchia skin ho realizzato perfetto iniziamo bene come al solito barderai tu e nel mentre io andrò a rushare ok fiii mi ritiro fragolino mamma mia veramente o ti tirano la testa tu devi smettere di guardare tiktok sai? tu devi smettere di guardare tiktok tiktok danneggia la mentalità celebrale soprattutto di svantaggio perché c'è guardate ogni volta che faccio un video con lei c'è qualcosa di strano in lei cioè veramente neri o grigi marroni o rossi questo cerca di fregarmi ma che sto facendo? ma che sta facendo? vieni a prendermi vieni vieni a prendermi sono qui bro ok no non si è lanciato vieni faccio così tipo preso quello che sta facendo? oh che sta facendo quello? che vuoi fare? attacco aereo? scendi guarda questo guarda questo si è messo a camperare no bro che fai? bro ultime parole Mi stiu le frego Mirti la fra estas لا ti prego ti segua mirti la frego mirti la frego mirti la frego mirti la frego ok ragazze andiamo a pugliare il grigio che se la sta dando a gambe vedo prendere l' MehINE va a prendere il suo letto mi hai visto esatto Сmulti la frego Quindi faccio così Picore No Oddio 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 Non cando No Mi ritiro fragolina Mi ritiro fragolina Ah non canti più Ah da quando sei morto Non canti più Tranquillo Fammi riprendere un attimo E poi canto Il blu è ancora vivo Nonostante sia una final kill Non è un problema per me Ciao blu Combatti Combatti Ok bro Vai vai Preso Ok arrivo Arrivo di grigio Che cazzo fa Che fa Ma bro che fai Dove fai bro Esistono ancora i celesti Andiamo andiamo da loro Eh vabbè Adesso è il grigio Ma dove viene Oddio Adesso muore Sva Volete vedere Volete vedere No Ma non è morta Strano Vai prendi giallo Vai prendi giallo Allora Ferma 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 Prima che tu mi cada Su uno dei posti Più stupidi al mondo Facciamo così Oh shit Che cazzo di urlo era Oh shit No non mi interessa nemmeno Sei la best È stato l'urlo più acuto Che ti abbia mai fatto Da quando l'ho conosciuto Oh mio dio Pensai veramente Che scappassi così? Tu sei pazzo Però io combatto Per la mia patria Oh ti prego Arrivo questo Fuoco Ho sbagliato il water bucket Oh shit Oh Vabbè Oh l'acqua 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 Ti prego Oddio Eh ma non ce la faccio Aspetta 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 Mi interessa un po' di no Aspetta 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 Davvero un confronto pari con questa cosa Facciamo così Facciamo così Sentiamo Tu mi rimetti senior mod Sì E io faccio face reveal Davvero? Sì sono disposta Non è vero? Sì E che? Vi voglio il senior mod Va bene Ciao